Musica Amici sportivi, amici di Udinese TV, benvenuti a questa nuova puntata di Orizzonti Bianconeri, la nostra consueta rubrica dedicata alle giovanili dell'Udinese. Ottimo punto per la primavera 1 di Mr. Giacomin che al comunale di Manzano è riuscita a strappare un 1-1 alla Sampdoria nella sfida omologa rispetto ai colleghi della Serie A. Per la squadra di Giacomin è il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio con la Lazio e la bella vittoria con il Napoli. Decisamente non male, visto il calendario non proprio abbordabile di questa prima parte di stagione in quello che è il massimo campionato giovanile nazionale. Un Udinese decisamente pimpante nel primo tempo che però non riesce a sfondare, deve comunque difendersi dalle insidie dei blucerchiati, vicinissimi al gol con un palo di Tomic e un sinistro al volo di Giordano. Neanche rientrati dagli spogliatoi e canovi sugli sviluppi di una punizione, porta subito in vantaggio gli ospiti. La reazione dei bianconeri però non si fa attendere e al settantesimo Filippiak indovina il lancio per Alimallè che supera il portiere avversario e insacca la rete del pari. Per l'Udinese dunque un passetto in avanti importante in classifica prima della sosta per lasciare spazio alle nazionali. Vediamo ora i risultati della quarta giornata. Per una classifica che vede la Roma in testa con 10 punti, Fiorentina-Atalanta-Verona 9, Chievo 8, Sassuolo-Inter-Genoa 7, Milan 6, Udinese decima al quinto posto, Juventus-Torino-Napoli 3, Lazio-Bologna e Sampdoria 1. Diamo ora uno sguardo anche alla classifica marcatori dove capocannoniere con 5 reti c'è l'Atalantino-Barrou, a seguire con tre gol Butic del Torino, Gori della Fiorentina, Odgar dell'Inter e Palmieri del Napoli con due gol. Invece i nostri portacolori a Limalè e Jadì e altri 11 giocatori. Abbiamo visto quindi alcuni flash di Udinese e Sampdoria, ora una sintesi più ampia del match con la telecronaca del nostro Stefano Giovampietro. Ci godiamo da Manzano, Udinese e Sampdoria, campionato primavera 1 team, gara valevole per la quarta giornata di campionato. Poi l'apertura a cercare Giordano, Donadello che si fa scavalcare dal pallone. Vujicic, Tessiore solleva per Vujicic con la mano, Vujicic la parata di Pizzignacco, ma c'era sembrato evidente il tocco di mano. Tessiore lascia scorrere il pallone, sfida Cagliazza che non ha timore di scortarlo. Poi il cross con il destro di Tessiore, Pizzignacco si scontra con un suo compagno e quindi è tutto regolare. Poi Vujicic a giro sulla parte esterna della rete, che sbaglia il rinvio, la zona di Canovi. Canovi se la porta sul Mancino, Canovi, Pizzignacco in due tempi evita guai peggiori. Garmendia sul secondo palo, Cagliazza la ripropone, Giardi non ci arriva per pochissimo. Poi il rinvio così così, Malle accarezza il pallone, Mancino rimpallo fuori gioco probabilmente. Lancio di Odasso per Giardi che brucia Oliana, Giardi prova a mettere in mezzo per Malle, non ci arriva. Vujicic, Baldè, allarga immediatamente per Tomic all'interno dell'area di rigore, destro di Tomic, palo, Pizzignacco. Occasione clamorosa per la Sampdoria che sbatte sul palo, Pizzignacco ringrazia. Malle apparecchia per Brunetti, si propone Garmendia che ha di fronte a sé la porta, Garmendia se la sposta sul destro, Garmendia deviato in corner. Poi il cambio di gioco di Gabbani, interessante a cercare Tomic, però sul secondo palo dove si coordina Giordano e sfiora un euro-goal. Gli applausi della panchina della Sampdoria che ha iniziato male, ha chiuso in crescendo però la prima frazione. La battuta di Gabbani allontana la difesa, Canovi è il vantaggio della Sampdoria con Canovi che di Mancino ha sfruttato un rinvio non perfetto della difesa bianconera. Stop, Mancino sotto la traversa, nulla da fare per Pizzignacco. Lancio lungo di Filippiak, Malle è regolare, Malle è regolare, Malle è di fronte a Outwagner, Malle è salta il portiere. Oh lì, Malle è uno a uno dell'Udinese, che lancio di Filippiak, che pesca lì Malle, che ha sbagliato magari tanto quest'oggi. Ma questa non poteva sbagliarla, uno a uno Udinese. Addirittura avanza, lancia ancora una volta, si fa scavalcare il difensore Mikulic. Brunetti in area di rigore, Brunetti risalta tutto, il tacco, la palla resta lì, Malle colpisce in pieno un difensore della Sampdoria. Recupera Kubala e serve Malle, è un tre contro due, erroraccio di Malle, comunque Giulù la tiene giocabile. Giulù, Giulù si presenta davanti alla porta, deve servire Kubala, Giulù lo fa con troppo ritardo. Kubala all'interno dell'area, il sinistro alto, la palla che finisce nella zona di Gomez, Pizzignacco si accartoccia e l'affassua. Il tentativo profondo di Oliana, la sfera rimane lì, attenzione, al calcio con il destro da parte di Tessiore. Tiro strozzato facile per Pizzignacco. Pronto ad andare con il rinvio Pizzignacco, nel frattempo arriva anche il triplice fischio. Finisce 1-1 al comunale di Manzano tra Udinese e Sampdoria. Soddisfazione moderata per questo punto da parte del tecnico Giacomin che ascoltiamo in questa intervista. Stiamo continuando a portare avanti un programma sotto l'aspetto soprattutto mentale. Oggi secondo me è proprio mancato un po' questo, rispetto alla partita di Napoli dove l'approccio è stato completamente diverso, anche se al primo tempo non abbiamo fatto male. Però diciamo che oggi bisogna che ci accontentiamo di questo punto perché credo che rispetto all'altra partita qualcosa sotto il piano mentale l'abbiamo lasciato. Forse un po' la vittoria robuante di Napoli, la classifica della Samp, hanno influito psicologicamente sull'approccio alla gara che poi, come dicevamo, al primo tempo è stato molto buono, più forse anche paradossalmente nell'approccio alla ripresa. Sì, però una squadra che vuole lottare, come io credo possa essere questa, per dei risultati importanti non può guardare la classifica degli altri, deve pensare prima a se stessa. E noi non possiamo sbagliare da questo punto di vista. Non c'è la squadra che è ultima, la squadra che è prima, che va affrontata in maniera diversa. Vanno affrontate tutte in stessa maniera perché, ripeto, è un campionato troppo importante, con dei valori molto simili e quindi ogni partita deve essere affrontata come se incontrassimo comunque la capolista. Anche perché, tra l'altro, ci saranno adesso queste due settimane con la sosta per lavorare bene, poi si andrà in casa di un sassuolo che è una formazione molto forte, anche se il campionato, come dice lei, è equilibrato e oggi ha perso anche pesantemente in casa del genere. Ripeto, ecco, io non darei per scontata questo risultato, nel senso che magari ci si aspetta da certe squadre qualcosa di più, però, ripeto, il campionato è molto livellato e questo dimostra appunto quello che ho detto prima. Dobbiamo affrontare tutte le partite alla stessa maniera. Adesso abbiamo dato continuità di risultati e abbiamo queste due settimane per un attimo sistemare alcune cose, alcuni meccanismi e quindi è una sosta che ci farà solo che bene. Queste le parole del mister, ora la sosta quindi per le nazionali, mentre il campionato di Primavera 1 riprenderà nel weekend del 14-15 ottobre con la quinta giornata che andiamo a leggere ora con l'aiuto della grafica, Fiorentina-Roma, Sampdoria-Inter, Juventus-Torino, il derby della Mole, Bologna-Chievo, Verona-Atalanta, Lazio-Napoli, Milan-Genua e Sassuolo-Udinese. Apriamo ora la pagina dedicata agli Under-17, reduci della vittoria per 2-1 sulla spalla e davanti al pubblico di casa. L'undici di Ametrano si riscatta dopo la sconfitta di Verona con una prestazione convincente in un match deciso da Parpinell su rigore e da Pecos. I risultati delle altre partite invece li leggiamo adesso. Chievo-Lazio 3-3, Bologna-Atalanta 1-0, Cittadella-Verona 0-2, Milan-Inter 0-2, Udinese-Spal 2-1, Venezia-Cesena 0-1, mentre Cagliari-Brescia si giocherà il 18 di ottobre. In classifica conduce il Cesena con 10 punti, seguono Bologna, Atalanta e Verona con 9 punti, Chievo a 8, Cagliari-Inter a 6, Udinese 5-1, Milan-3, Brescia 2, Venezia-Cittadella e Lazio 1, Spal 0. Quella tra Udinese e Spal al comunale di Pavia di Udine è stata una partita ricca di emozioni. L'abbiamo vissuta assieme nella diretta di domenica scorsa, ora invece andiamo a vedere un breve estratto in questa sintesi che abbiamo preparato per voi. Amici sportivi, amici di Udinese TV, benvenuti dal comunale di Pavia di Udine, dove stiamo per trasmettervi l'incontro tra Udinese e Spal, valido per la quarta giornata del campionato italiano under 17 in Coppa UEFA. Tra l'altro in questi giorni ricorre proprio il ventennale della prima apparizione dei bianconeri in Europa. è iniziato il match a cercare di lanciare la coppia d'attacco, contropiede di Kudryg, attenzione, occasionissima, un pallo clamoroso, ma poi riesce a esterno della rete. Conclusione da lontanissimo, dove Moretti deve alla fine deviare in corner. Difesa a tre invece per la spalla, che gioca adesso questo primo pallone con Marzio. Buona la difesa adesso di Battistella, così come anche di Zanolla, però ha spazio per concludere. Bellar. Di Franco, ancora lui, al centro, va giù, va giù Oviszak. E c'è rigore questa volta, e c'è rigore dopo le timide proteste di prima, soprattutto da parte del pubblico. Questa volta l'arbitro accontenta i tifosi di fede bianconera. Attenzione, la battuta dal dischetto. E c'è il gol, e c'è il gol di Parpinelle. 1-0 per l'Udinese. In mezzo ci sono Pecos, c'è Kudryg, c'è Beck. E alla fine ci va di testa, ci va di testa Pecos. L'avevamo chiamato, ed è arrivato il suo gol, il suo stacco imperioso, che va a mettere una pietra su questa partita. Vallesani, attenzione, riesce a pescare Mazzoni, che a tu per tu con Moretti deposita in rete. con un destro potente, imprendibile, data la distanza ravvicinata di Franco. Ancora per Ovisda, che da solo entra in area, troppo ben marcato. Era questa l'ultima azione della partita. L'Udinese porta a casa per 2-1 questa vittoria interna sulla spalla. Restiamo a parlare di Under 17 per ascoltare anche le interviste post-gara. Abbiamo intervistato il tecnico Ametrano e l'attaccante Pecos, che come vedremo si ispira a uno degli attaccanti del Udinese Senior. Forse avrete capito già chi. Allora, andiamo a sentire le interviste. Mister Ametrano è arrivata a questa prima vittoria in campionato, al termine di una partita vibrante, molto bella anche da vedere, ma soprattutto una prestazione convincente da parte tutto il collettivo. Sono contento soprattutto per i ragazzi, pure perché se lo meritano. Lavorano duramente, con serietà, quindi sono contento soprattutto per loro. Una partita decisa dai giocatori entrati nel secondo tempo, quindi i cambi azzeccati. Più che i cambi azzeccati, è un gruppo che è omogeneo, sono bravi, chi parte prima, chi arriva dopo. e quindi questo non è perché se uno parte in panchina è inferiore a un altro, anzi, ci sono delle esigenze, c'è il momento fisico, il momento tattico, quindi sono tutti importanti in un gruppo. Poi soprattutto in Under 17, che è un anno di costruzione, e quindi non esiste una riserva. Ora, prossima partita a Cittadella, un'altra occasione per fare punti? Ma, in tutte le partite c'è la possibilità di portare a casa qualcosa, sono tutte difficili, e adesso ci godiamo questa vittoria e poi penseremo a Cittadella. Gabriel Pecos, oggi autore del secondo gol, che dire, sei entrato in campo, hai subito dato una sterzata alla partita, hai anche fatto gol, meglio di così non poteva andare? No, penso che sia andato troppo bene, ma non solo con me, tipo con tutta la squadra, ho fatto una squadra unita e abbiamo fatto un meglio secondo tempo. Sono orgoglioso, tipo mi piace fare il secondo gol e poter aiutare alla squadra con il secondo gol. Hai un po' le sembianze di Evandro, sia un po' come capigliatura, ma anche come ruolo. Ti identifichi in lui o c'è qualche altro dell'Udinese, della prima squadra, che ti piace e a cui ti ispiri? No, resto con Evandro. Prima di venire qua, già guardavo il suo video del tipo di calcio in YouTube, perché mi piace come gioca, è un gioco più allegro, molto allegro, e parlo come io portugese, è un fenomeno per me. Niente sosta per gli Under 17, al contrario della Serie A e della primavera, il campionato quindi prosegue e vediamo il calendario della quinta giornata. Atalanta-Chievo, Brescia-Milan, Cesena-Cagliari, Cittadella-Udinese, Elas-Verona-Venezia, Inter-Bologna, Lazio-Spal. Buone cose abbiamo visto dalla primavera, dall'Under 17, ma la squadra che sta letteralmente spiccando il volo è l'Under 16 di mister De Biagio. Per il classe 2002, un rotondo 2-0 conquistato sul campo del Brescia, un gol per tempo con le reti di Palumbo al ventesimo del primo tempo e di Ianesi al trentacinquesimo della ripresa. Le partite della giornata invece si sono concluse con questi risultati. Bologna-Venezia 2-0, Lazio-Cittadella 1-2, Brescia-Udinese 0-2, Cagliari-Chievo 0-1, Cesena-Verona 1-2, Inter-Milan 3-1, Atalanta-Spal 3-0. In classifica conduce il Chievo con 10 punti, Lazio 9-9, Atalanta-Inter 8-8, Udinese al quinto posto con 7-7, Cesena-Bologna-Verona 6 punti, Spal e Cittadella 4-4, Cagliari-Milan e Brescia 3-3, Venezia 2. La vittoria sul Brescia issa l'Udinese al quinto posto, come abbiamo visto, grande soddisfazione per mister De Biagio che ascoltiamo in questa intervista. Mister, avete iniziato pareggiando con l'Inter, ora la seconda vittoria consecutiva e il quinto posto Siete la formazione giovanile bianco-nera che in questo momento sta avendo in assoluto migliori risultati. Sicuramente l'inizio è stato buono e penso più che per i risultati, per le prestazioni, perché abbiamo fatto diverse prestazioni con diversi avversari che ognuno aveva delle qualità importanti e quindi anche lo spirito di addamento e di sacrificio che questi ragazzi hanno messo in campo penso sia stata la cosa più bella e più come dire, redditizia di questo inizio di stagione che fa ben sperare, però come dico sempre quello che si è fatto si è fatto, bisogna sempre pensare in avanti e quindi adesso dobbiamo prepararci altrettanto bene per le prossime gare già la domenica con l'Ellas che sarà una gara molto molto importante. Una squadra ricca anche di 2003 quindi di giocatori di un anno più piccoli ma comunque state dando filo da torcere a molte squadre anche di alta classifica. Sì, diciamo che anche un po' per le altre categorie come penso si stia verificando e vedendo i giocatori un attimino un po' più pronti del momento vogliamo provare a fargli fare qualcosa in più ma questo non è né una promozione né un qualcosa di duraturo lo verifichiamo di settimana in settimana e se queste risposte sono positive come si sta verificando con i nostri 2003 perché no? Fargli giocare un anno sotto età per me per la società credo che sia un motivo di soddisfazione ma soprattutto anche di formazione per i ragazzi che quindi hanno la possibilità di lavorare sicuramente ad un'intensità superiore e quindi anche quello che è il loro apprendimento viene un po' incentivato e questo vale anche per i 2002 che molti di essi sono stati richiesti da Mr. Ametrando esattamente mi riferivo proprio a quello quindi anche ma anche la stessa primavera insomma utilizza diverse volte i nostri 2001 c'è addirittura il nostro portiere Emanuele Gasparini 2002 in primavera quindi è un discorso proprio anche individuale di selezione ma anche di provare a vedere se i giocatori riescono a stare quella categoria un po' più sopra e vedere come sono appunto le loro tappe nella loro crescita insomma Andate fortissimo anche in difesa due partite di fila se non sbaglio senza prendere gol quindi anche il portiere Pagnuco si è rivelato un ottimo acquisto ma diciamo che come si dice sempre la difesa parte dagli attaccanti e continua con tutti gli altri reparti sicuramente Pagnuco ci sta dando delle garanzie siamo contenti ma io penso che sia tutto il reparto anche un po' la fase il modo in cui si difende perché alla fine non è sempre giusto dire di uno o di due giocatori ma è giusto dire insomma un po' di tutti perché se arrivano pochi pericoli al portiere la nostra difesa perché magari in mezzo si riesce a lavorare bene e soprattutto si lavora come dico sempre io l'un per l'altro quando si deve difendere e quindi lavorare l'un per l'altro dopo porta minor fatica minor spesa energetica un po' per tutti gli altri giocatori della linea La Serie A e la Primavera si fermano per le nazionali voi invece continuate a giocare siete in forma quindi benvenga a proseguire a giocare per cercare subito un'altra vittoria Sì sicuramente il momento è buono siamo contenti di continuare avremo addirittura anche noi la sosta la domenica dopo e quindi rispettiamo il calendario ci prepariamo per l'Elas Verona come ripeto è una partita molto importante su un terreno dove pochi fanno punti e quindi anche lo stimolo durante la settimana sia nostro e dei ragazzi deve essere sempre quello di dare sempre il 110% Un under 16 veramente in palla che ora vediamo alle mie spalle là in fondo impegnata in allenamento per preparare la trasferta in terra scaligera con l'intento di portare avanti il più possibile questo periodo di ottima forma e di ottimi risultati una vittoria che certamente sarebbe sinonimo anche di un ulteriore scalata in classifica dato che in calendario è previsto anche lo scontro diretto tra il Chievo capolista e l'Atalanta terza forza con otto punti vediamo allora le altre partite in calendario Cagliari-Brescia Cittadella-Inter Milan-Bologna Spallazio e Venezia-Cesena a completare il quadro partite che corrispondono anche la quinta giornata del campionato under 15 dove l'Udinese purtroppo vive una situazione un po' diversa rispetto ai compagni di un anno più grandi sempre in quelle di Brescia la formazione di mister Zompicchiatti ha dovuto cedere il passo per 3-0 alle rondinelle una netta superiorità quindi da parte delle Brescia le reti portano la firma di Bacchin al sesto minuto di Bianchetti al ventottesimo e di De Luca al sessantaquattresimo mentre la formazione bianconera ha dovuto subire anche la tegola dell'espulsione di Garbero i risultati ora Bologna-Venezia 4-0 Lazio-Cittadella 1-0 Cagliari-Chievo 2-0 Cesena-Verona 0-1 Inter-Milan 1-0 Atalanta-Spal 1-0 in classifica punteggio pieno per la coppia nera-azzurra Atalanta-Inter 12 punti Cagliari 9 seguono Bologna Cesena e Lazio a quota 7 Milan-Spal 6 Verona 5 Brescia Cittadella e Chievo 3 Udinese 1 Venezia 0 l'Udinese quindi si trova momentaneamente a sgomitare nella parte bassa della classifica ci auguriamo di portarle fortuna nei prossimi incontri e che riescano a guadagnare posizioni così come le formazioni Under 16 Under 17 e di Primavera che stanno disputando degli ottimi campionati Chiudiamo con un aggiornamento sui campionati giovanissimi sconfitti regionali 2004 sul campo della Fincantieri Monfalcone impostasi sui bianconeri per 2-0 con una doppietta di Garbesini con lo stesso risultato invece gli sperimentali del 2005 hanno portato a casa il successo vincendo a Varmo le reti portano la firma di De Bernardi e Russo si chiude qui questa puntata di Orizzonti bianconeri vi do appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 20 sempre su Udinese TV buon proseguimento di serata grazie a tutti Grazie a tutti.